Protagonisti di questo palcoscenico e del nostro incontro, amici che da sempre hanno una forza nella rappresentazione del ballo. C'è una data che sta a significare anche una loro uscita dalla Sardegna, una loro trasferta. 1948 a Grigento e già il costume di Busacchi aveva modo di suscitare ammirazione anche in Sicilia. Quindi un applauso agli amici dell'associazione culturale Gruppo Folk Busacchi, bella mia. Ben trovati, Roberto Fadda questa sera avrà il piacere di accompagnare Sannanta per gli amici di Busacchi che non indossano il costume soltanto per la messa in scena e per la rappresentazione ma in tante donne ancora oggi a Busacchi indossano l'abito tradizionale nella quotidianità. Quindi con Fioretta ovviamente rivendicano questo aspetto che ancora resiste. Un applauso agli amici del Gruppo Folk Busacchi. Giuseppe! Applauso agli amici del Gruppo Folk Busacchi. Applauso agli amici del Gruppo Folk Busacchi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.